Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo a parlare di montature per ciprinidi in laghetto e in acqua libera. Però prima di tutto, via con la sigla! Quindi andiamo a distinguere le due categorie. Sono montatura da carpodromo e montatura da pesca in canale. Di solito in laghetto, non avendo corrente, si vanno a utilizzare veramente grammature molto piccole. Possiamo vedere... abbiamo questo che è un... non si riesce a leggere... uno 0,30... qua abbiamo uno 0,30 e due 0,20. Sono grammature veramente piccole e ci sono molti tipi di montature da utilizzare. In genere l'acqua va dal metro e cinquanta ai tre metri massimo di profondità. Si possono utilizzare sia per carassi, in laghetto ovviamente, carpe, cefali, pesce gatti. Qua abbiamo una montatura per esempio molto compatta. Guardate, sono tre pallini. Uno e due staccati leggermente. E poi un amo, del 14 in questo caso. Questa la utilizzavo d'inverno per le carpe che stavano un po' più impiantate sul fondo, ma non tantissimo. E quindi avevo bisogno di un'esca un po' più... che lavorasse in una maniera morbida. Poi abbiamo questa montatura qua, che è fatta leggermente in modo diverso. Dopo ci sono molti metodi per farlo. Per esempio, un altro metodo sarebbe prendere una decina di pallini del 13 e metterli lì su in modo da fare una lenza per la pesca galla delle carpe. Molto distesa. Ok, vedete, questa è sempre una montatura fatta con la stessa lunghezza, però sempre tre pallini. Però messa in maniera diversa. E questo fa lavorare diversamente l'esca. E soprattutto nella sua discesa. Questo crea una discesa più armoniosa dell'esca. Nel senso che scende velocemente, però sempre alla stessa velocità. Invece con la precedente arrivava giù e poi scendeva piano. E con le carpe un po' più lente e soprattutto sospettose, quella un po' più lenta a volte è la meglio. Dopo queste quindi possiamo andare a vedere quelle per la pesca in canale. Qua possiamo vedere galleggiante da 2 grammi. Fatta sempre la solita montatura. Un bulk praticamente simmetrico. Distanza di 15 cm dal primo pallino. 12 cm. E 7 cm. Come funziona? In genere le carpe carassi non sono come le abbiamo con una mangiatina, ma hanno una mangiata un po' più lenta. In genere quindi se la portano via. Questa serve proprio per accompagnare un po' la carpa. E tenere l'esca un po' più piantata sul fondo. Soprattutto per la pesca in canale. Com'è che lavora questa lenza? Questa lenza porta intanto il bulk in zona d'azione. Quindi quando arriva il galleggiante ha filo con l'acqua. Questa come scende? Molto velocemente in modo da far arrivare subito l'esca. Infatti come vedete la piombatura è più verso la fine della lenza. In modo da far arrivare subito l'esca sul fondo. E questa è una tipica montatura da carpe e carassi. Dopo va bene anche per i cavedani. Per i cavedani è un po' più complicata. Questa può andare bene d'inverno. Andiamo a vedere un'altra montatura. Un'altra montatura è stata applicata su questo 075. Non vedete stesso galleggiante però la piombatura cambia. Abbiamo leggermente più peso sul bulk. Un piccolo bulk. E due pallini grossi. Questo perché? Bulk scende per primo. Ancora di più questa montatura porta l'esca velocemente sul fondo. Perché? Perché più peso abbiamo qua. Più peso abbiamo la fine. Inoltre tutto è una montatura abbastanza chiusa. Praticamente perché guardate abbiamo 5 cm e 10 cm. Vedete praticamente il doppio quasi. Dal primo pallino è quasi il doppio. E serve per portare subito sul fondo l'esca. Questo è ancora di più. Come detto nei precedenti episodi. Quando abbiamo pesce foraggio. Che sta molto a dar fastidio soprattutto. Una montatura che porta velocemente l'esca sul fondo. Quindi al pesce più desiderato. Quello un po' più grosso in genere. È una manna dal cielo. Qua possiamo invece vederlo su un galleggente da 2 grammi. Però un bulk più grande. E sempre i due stessi pallini messi alla medesima distanza. Una montatura molto compatta veloce. Mi stavo dimenticando una montatura da carpodromo. Che è questo galleggente qua. Che la storia di questo galleggente è anche interessante. Durante un campionato italiano l'ho trovato per terra. Qualcuno sarebbe dimenticato. E gli ho detto. Ma sì dai prendiamo. Ci ha fatto una montatura anche. Questa montatura è un po' diversa. A parte che ha un ammo. Non so solo per metterci il pellet. Allora vedete qua abbiamo una pallinata un po' più aperta. Tutti e sette i pallini dello stesso numero. Abbiamo un piccolo bulk qua. Davanti. Ok. Un piccolo bulk. In modo da fare più peso. E far scendere prima questo pezzo di lenza. Quindi. Com'è la sua azione in acqua. Scende questo. Dopo inizia pian piano a scendere. E dopo abbiamo. Cinque pallini. Che. Messia. A tutti e equa distanza. Quindi. A cinque centimetri uno dall'altro circa. Quindi l'effetto doveva essere questo. Scende pian piano. E si appoggia. Qua c'era anche un cavetto lungo. Non mi ricordo perché. Ci sarà stato un motivo. Ah sì. Perché questa era una mia lenza estiva. E dopo l'ho riadattata per il pellet invernale. Ragazzi per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Spero vi siete divertiti. Mi raccomando mettete mi piace. Condividete il video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Prossimamente altri video. E per questo video è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.